Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza di Trieste distrugge due tonnellate e mezzo di cocaina. La droga era stata sequestrata in una delle più vaste operazioni eseguite in Europa, con 38 persone finite in carcere e 2 milioni di euro in contanti posti sotto sequestro. Immigrazione e accoglienza sul territorio è polemica dopo i continui arrivi. In Italia una media di 700 persone al giorno, i presidenti delle regioni puntano a scongiurare le tendopoli nelle città. La proliferazione del Gran Chio Blu può arrivare a far perdere quest'anno fino all'80% della produzione del comparto pesca, è il dato emerso oggi nell'incontro tra Regione Veneto e pescatori a Porto Tolle. La specie mangia qualsiasi tipo di vongole, cozze e ostriche, taglia le reti e divora branzini e orate. Zaia ha chiesto al governo lo stato di emergenza. Il traghetto Bibione Lignano supererà le 100.000 presenze. Le stime sorridono al servizio di collegamento tra le due località e alla promozione del turismo lento, sempre più ricercato dai turisti che oltre al mare scelgono la scoperta del territorio. Eccoci dunque ad informarvi, ben ritrovati con il TGM, il telegiornale di media 24. San Michele al tagliamento, un uomo colto da malore trasferito a Udine. È accaduto questa mattina, un cinquantenne è stato soccorso dal personale medico infermieristico per un grave malore al quale ha seguito un arresto cardiocircolatorio. È accaduto in piazza Guglielmo Marconi, l'uomo si trova all'interno di un mezzo quando le persone che erano sul posto sono accorte che stava male. La chiamata di aiuto è arrivata alla sala operativa della centrale 118 dimestre che poi l'ha dirottata su quella del Friuli Venezia Giulia. Il personale medico infermieristico proveniente da Lattisana ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare che sono continuate fino all'arrivo nel pronto soccorso dell'ospedale lattisanese dove il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Per lui è stato poi disposto il trasferimento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'abbiamo sentito dai titoli. Distrutte 2,5 tonnellate di cocaina dalla Guardia di Finanza dopo una delle più importanti operazioni contro il traffico di droga a livello internazionale. Il servizio Tania Pellegrini. Martedì 22 agosto il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste ha concluso una delle più vaste operazioni antidroga d'Europa con la distruzione definitiva di 2.149 panetti di cocaina, parte delle 4,3 tonnellate di stupefacente sequestrato tra il 2021 e il 2022. L'operazione denominata Geppo 2021 aveva portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 38 persone in Italia, Colombia e vari paesi europei, oltre che al sequestro di circa 2 milioni di euro in contanti. Ieri il narcotico è stato portato, grazie a un imponente servizio di sicurezza predisposto dalle fiamme gialle, all'inceneritore del capoluogo Giuliano, dove è stato definitivamente distrutto. L'attività di smaltimento segna le fasi finali dell'importante azione investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che aveva visto gli uomini della Guardia di Finanza di Trieste portare a termine un'operazione eccezionale, non solo per la quantità dello stupefacente sequestrato, ma soprattutto per il numero di consegne controllate portate a termine. Ben 19 sono state le operazioni sotto copertura eseguite tra il maggio 2021 e il maggio 2022, in cui i finanzieri sono riusciti ad inserirsi nel cuore delle organizzazioni criminali coinvolte. L'attività investigativa, coordinata dal PM e dottor Federico Frezza, aveva portato all'arresto di esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese e del noto clan del Golfo in Colombia, spietato gruppo paramilitare dedito alla produzione dal traffico di cocaina a livello globale. Lo stupefacente sequestrato sul mercato avrebbe reso tra i 240 e i 500 milioni di euro. Attualmente sono 23 gli imputati nei cui confronti sono state messe condanne a pene detentive comprese tra i 4 anni e mezzo e di 9 anni di reclusione. Per 11 di questi le condanne sono già divenute irrevocabili. Della cocaina sequestrata e distrutta rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria solo piccole percentuali di campioni necessari nelle frasi processuali che si svolgeranno prossimamente. 41 violazioni al codice della strada e 20 punti patente saltati. Questo è il bilancio degli ultimi controlli svolti dalle forze dell'ordine nel Pordenonese. Un presidio di sicurezza disposto dal questore di Pordenone e coordinato dalla dirigente della sezione polizia stradale di Pordenone, Guglielmo Bavaresco, con l'impiego di pattuglie oltre che della polizia anche dei carabinieri della Guardia di Finanza e con i comandi di polizia locale dei comuni di Aviano, Azzano Decimo, Maniago, Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al tagliamento. 11 pattuglie, 241 persone controllate e oltre a 180 veicoli. A Pordenone sono comparse scritte sulle vetrine dei locali sfitti e opera dell'artista di strada noto come Freak of Nature che per la prima volta ha colpito anche il Friuli Venezia Giulia. 90 i negozi sfitti della città che nella notte sono stati marchiati dall'artista. Il tratto è realizzato con colori a base d'acqua facilmente lavabili e disegna il caratteristico marchio del bambù accompagnato da un numero che identifica ogni negozio con le serrande abbassate. L'obiettivo, scrive su Facebook Freak of Nature, è portare sotto i riflettori di cittadini, amministratori, associazioni di categoria e media le tantissime attività sfitte, negozi abbandonati che ormai ci circondano diventati luoghi non luoghi, inducendo a una riflessione sociale. Pordenone è una delle innumerevoli città lombarde, venete, emiliane e romagnole colpite proprio dall'artista. Ormai sono molteplici le località italiane dove tanti locali hanno abbassato definitivamente le serrande. A Motta un atto vandalico, indagano le forze dell'ordine. Ennesimo episodio inqualificabile nel centro storico di Motta di Livenza. La vetrata di un'attività commerciale, la nota pizzeria Megusta, molto frequentata dai mottenzi e anche dai turisti, è stata presa di mira da un atto vandalico. Qualcuno l'ha sfondata con un segnale stradale che era stato divelto nei pressi. Il fatto è stato segnalato dai carabinieri che, inoltre, hanno visionato le immagini della videosorveglianza. Denunceranno una persona. Non si capisce la motivazione del gesto, scaturito al culmine di tensioni tra i cittadini e qualche commerciante. Al vaglio anche i filmati delle telecamere. È un'estate maledetta per le attività centrali di Motta di Livenza. Lo scorso luglio un'altra attività del centro, il gym bar di Piazza Luzzatti, aveva subito danni alle vetrate e tavolini esterni per colpa di una lite che ha riguardato due persone straniere per motivi di gelosia. L'ordine pubblico a Motta sta diventando un problema molto serio. Immigrazione ogni giorno in Italia si contano circa 700 arrivi. Alcuni sindaci contestano la strategia dell'accoglienza sul territorio. Per i presidenti delle regioni bisogna scongiurare le tendopoli nelle città. Ed è polemica. È ormai un vero e proprio allarme quello che riguarda il tema migranti, che da giorni tiene banco in tutti i territori, dopo che alcuni sindaci hanno criticato il governo per la gestione dell'accoglienza a livello locale. A pesare molto è l'ingresso dei minori non accompagnati, che secondo i dati del Biminale solo nell'ultimo weekend sono stati 1902. Nell'anno in corso gli ingressi sono stati in totale 105.449, con una media giornaliera di 700 unità. Una situazione che sta diventando insostenibile per quasi tutti i territori dove i posti dedicati all'accoglienza sono finiti. Per molti presidenti delle regioni, tra cui il governatore del Veneto Luca Zai e dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, vanno scongiurate le tendopoli e i mega assembramenti, cose che si stanno già intravedendo nei territori d'ingresso della rotta balcanica, come i comuni di Trieste e Gorizia. Sui minori non accompagnati, che pesano anche in Friuli Venezia e Giulia, il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Angelo Bonelli, ha annunciato un'interrogazione al ministro Piantedosi, definendo il governo uno scarica barile, che lascia soli i comuni e i sindaci italiani senza nessun piano di accoglienza. Votta e risposta ieri sul tema anche in regione, dove la capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Rosario Acapozzi, ha accusato la giunta Fedriga di aver tagliato, con l'assestamento di bilancio, oltre 2 milioni e mezzo di euro di risorse dedicate alla gestione dei minori stranieri non accompagnati, quando già la legge di stabilità aveva dimezzato i fondi. Per la pentastellata era questione di tempo prima di vedere migliaia di migranti riversati per le strade delle città, a causa della mala gestione da parte del governo. Critica la replica dell'assessore alle autonomie locali e alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che invece ha precisato come la giunta Fedriga, grazie ad un dialogo con il governo nazionale, abbia ottenuto un aumento delle risorse che lo Stato versava ai comuni che hanno in carico i minori non accompagnati, passando da 45 a 65 euro al giorno. Una cifra che nel 2023, ha ricordato Roberti, è passata a 100 euro, consentendo un risparmio notevole per le casse regionali, che prevedevano poi un ristoro per i costi residui sostenuti dalle amministrazioni comunali. Si parla di migrazione anche in Veneto, dopo le dichiarazioni di ieri del governatore Zaia, sull'arrivo di 9 mila persone solamente nell'ultimo flusso. Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, è intervenuto assieme ai colleghi Elena Ostanel, Veneto Chevoliano, vogliamo Cristina Guarda, Europa Verde ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, oltre al portavoce Arturo Lorenzoni. Chiediamo a Zaia e alla giunta regionale di spiegare come la regione intenda affrontare la gestione degli oltre 9 mila migranti attualmente ospitati nei nostri territori. Gli spazi non sono sufficienti, visto i rifiuti pregiudiziali dei sindaci leghisti e si inizia a profilare la possibilità che si ritornino a vedere nelle città tendopoli e grandi assembramenti. Zaia, oltre a lamentarsi contro l'Europa, ci dica cosa vuole fare del Veneto. Venga in aula a riferire. Granchio blu, questa specie che tormenta i pescatori. Oggi a Porto Tolle è stato fatto il punto della situazione. Il presidente del Veneto, Zaia, ha incontrato i pescatori. Il grido d'allarme a fine anno si stima un calo dell'80% della produzione. Mangia qualsiasi tipo di vongole, arriva a divorare cozze e ostri che taglia le reti e si ciba di branzini e orate eventualmente catturati. È stato definito dal presidente del Veneto, Luca Zaia, un vero e proprio cataclisma. Cataclisma, il fenomeno della proliferazione del granchio blu che sta imperversando nelle acque venete, distruggendo un intero comparto produttivo. Oggi la regione ha incontrato i pescatori al porto di Pila, in comune di Porto Tolle. Il Veneto ha chiesto lo stato di emergenza. Siamo stati la prima regione, forse ancora l'unica, ad aver chiesto lo stato di emergenza. C'è un ottimo rapporto con il governo, con il ministro Lollobrigida. È chiara l'emergenza e spero che venga dichiarato quanto prima per poter dare una mano a dei pescatori che rappresentano il 39% della produzione nazionale di vongole, con 52.000 quintali all'anno e che quest'anno avrà un dato negativo, sarà meno 80-90% di produzione perché se li mangia tutti i granchio blu. Fondamentalmente dall'inizio anno ad oggi catturati circa 450 tonnellate di granchio blu e quindi l'idea della biodigestione, di portare nei biodigestori, è assolutamente vincente e cercheremo di autorizzare questa attività. Se riusciamo ad avere la dichiarazione dello stato di emergenza, che è esattamente quella che ha chiesto il Veneto l'8 di agosto, noi possiamo avere tutta una serie di misure per gli imbarcati, di ammortizzatori sociali, aiuti, derogano i pagamenti e cercare di fare questa azione di accompagnamento finché la situazione torna a ristabilizzarsi. Certo è che siamo molto preoccupati. In tanti parlo di opportunità di questo granchio blu, ma così non è la nostra eccellenza. Ma guardi, senza voler andare a pescarlo, ma semplicemente in maniera fortuita, trovandoselo nelle reti, è stato pescato un quantitativo di 450 tonnellate, destinato al consumo umano a 150, il che la dice lunga su quanto sia invasivo e quanto poco sia utilizzabile poi. Granchio blu, dunque in primo piano. In studio con noi c'è l'onorevole Rosanna Conte, ben ritrovata. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Abbiamo sentito quelli che sono i gridi d'allarme, si stima una produzione del meno 80% quest'anno. Di fatto però c'è anche un altro rovescio della medaglia che è l'esportazione, la commercializzazione proprio del granchio blu. L'onorevole Conte arriva proprio da un incontro in questo senso perché c'è una start-up femminile di Rimini che ha creato insomma un progetto nuovo valorizzato poi da un'azienda veneta. Si cerca insomma di fronteggiare nel miglior modo possibile questo che è un fenomeno definito come una vera e propria piaga, onorevole Conte. Una vera e propria piaga che ha creato allarme in tutto il comparto della pesca perché va a modificare quella che è la nostra biodiversità marina. Argomento che io ho trattato già in Europa dal 2020 con il mio e-report sull'aumento delle temperature delle acque dove si evidenziava che con questa tropicalizzazione queste specie potevano avvicinarsi sempre di più ai nostri mai per l'aumento delle temperature di 2-3 gradi. Per cui ha creato grossi problemi ma sta creando grossi problemi per quanto riguarda la biodiversità marina in quanto è una fattispecie molto vorace, aggressiva e prolifera. Una specie che riguarda tutta la costa dell'Alta Adriatico? L'Alta Adriatico non solo, ovviamente Veneto, Emilia, anche la Liguria e da ricerche scientifiche fatte che stiamo facendo in Europa potrebbe anche spostarsi nel Mar Baltico. Quindi la situazione andrebbe ad aggravare ulteriormente. Ora è vero, io oggi ho visitato questa azienda che in modo innovativo con questa start-up delle ragazze di Rimini Mariska Doras Mariska Doras e l'azienda Taglia Pietra che si occupava semplicemente di distocca fisso in modo esemplare ovviamente perché è una delle nostre eccellenze venete e sono riusciti a trasformare in qualche modo in prodotti subito come sughi, salse e anche varie specialità e poi farle arrivare negli Stati Uniti. Sì, io ho visto a dirittura come avviene l'abbattimento dall'inizio mi hanno fatto vedere tutta la trasformazione anche come procedono con la pulitura e devo dire che in modo preciso e puntuale riescono anche a mettere nelle cassettine tutti i granchi della stessa misura e nella stessa dimensione. Quale altra soluzione potrebbe esserci per combattere il fenomeno al di là di questa? Perché c'è da capire anche l'Europa in questo senso cosa sta facendo o che cosa può fare. L'Europa, allora io informalmente sto discutendo con la Commissione e il problema è che stanno valutando se inserirlo in quella lista delle specie invasive. Questo ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro perché dopo per pescarlo ci sarebbero delle regole ben dettagliate e dovremmo eventualmente andare in deroga a determinate posizioni dell'Europa. Però l'Europa, come sappiamo, si basa principalmente oltre a dare dei finanziamenti, degli indennizi ma soprattutto nella ricerca scientifica. La CGPM sta lavorando dal 2022 al 2024 sulla ricerca scientifica per capire come poter limitare i danni di questa specie. Ovviamente limitare i danni perché non si può spostare, lo sappiamo ma va a compromettere altre nostre specie animali. Si parla adesso di questo uccello Ibis che dovrebbe intervenire però al suo tempo andrebbe comunque ad alterare il nostro ambiente e quindi anche questo ha delle proprie contrarietà per quello che riguarda il nostro territorio perché lo sappiamo quando vengono introdotte nuove specie animali la biodiversità cambia. Bene, ci torneremo chiaramente. Grazie a Gianna Conte ha detto Giorgio Ardito, il presidente dell'Ignano Pineta, S.P.A. Con il sistema di traghetti vigente è possibile per chi ha la bicicletta salire a caolo e raggiungere grado per poi pure fare ritorno in giornata. Ancora turismo è una stagione baldeare dai numeri positivi quella che si sta vivendo a Eraclea Mare. Al giro di Boa il primo bilancio fa ben sperare dello sprint finale che potrebbe portare altre soddisfazioni alla località lo rende noto Conf Commercio. Siamo nell'ordine del 15% in più rispetto alla passata stagione. il commercio che è il comparto che soffre di più ha comunque avuto un segno positivo nell'ordine del 2%. Non ultimo i pubblici esercizi che hanno fatto grandi numeri anche a inizio stagione ora si assestano secondo Conf Commercio attorno all'8%. Per quanto riguarda il comparto ricettivo ci sia stata un'occupazione media dell'80% con punte da tutto esaurito nei fini settimane. Il comune di Fiume Veneto ospiterà capire e fare buona amministrazione. Un percorso di formazione organizzato dal sistema integrato AnciComp a Friuli Venezia Giulia appositamente pensato per offrire agli amministratori neo eletti le conoscenze teoriche e l'abilità pratico-metodologiche di base per poter esercitare il proprio ruolo di amministratori pubblici locali con maggiore consapevolezza e capacità operativa. Il via dal 30 di settembre. Massimo Zannone, presidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo ben ritrovato presidente che focus possiamo fare in questo particolare momento dell'anno in cui si va verso la fine delle vacanze da un lato e arriverà insomma un autunno che sotto certi versi l'abbiamo sentito anche dal ministro Giorgetti nell'elaborare insomma le prime idee sulla legge finanziaria non sarà certamente facile. La parte mia credo come sempre succede non è sicuramente stata neanche questa è una nata per favolosi successi da parte di nessuno per mille cose che sappiamo tutti e nello stesso tempo il futuro che ci che ci aspetta è un futuro che comunque si porta dietro tutto il peso non solo di quest'anno ma anche degli anni scorsi non sono così pessimista ben sapendo se tutti ci mettiamo in testa proprio parlo a livello di singola persona che il futuro non è così facile se non portiamo avanti un discorso diverso rispetto all'egoismo di settori o egoismo di singoli elementi perché non c'è dubbio che questo è un paese che si deve salvare da una situazione critica mettendo insieme le buone idee e soprattutto la voglia di lavorare che è fondamentale per riprendere ad essere non solo competitivi ma produttivi fine a se stessi. Come sta il mondo del lavoro Presidente? Perché una recentissima indagine della bussola di Veneto di lavoro abbiamo dato notizia in questi giorni insomma ha delineato come chiaramente la stagionalità fa da traino soprattutto anche nel veneziano però anche qui i chiaroscuro non mancano in vista dei prossimi mesi non so dal punto di vista vostro del vostro osservatorio com'è? In questi giorni sono gli artigiani che lanciano l'allarme che mancano un sacco di figure per occupare spazi in quell'ambito e nell'ambito del rimanente mondo produttivo non è diversa la stagionalità ha in qualche modo aumentato le problematiche per chi lavora tutto l'anno adesso magari in qualche modo si troverà soluzioni legate al mondo del turismo al mondo dei servizi ma credo non sia ancora iniziato il percorso di recupero d'altra parte venivamo da una situazione imprevista e questa situazione imprevista non era stata né programmata né tanto meno ragionata per come si è poi evoluta e siamo ancora a metà del guado Cosa ne pensa di chi sul fronte del tema dell'immigrazione rilancia con forza la necessità di un ricambio generazionale da un lato ma anche dell'introduzione di nuova forza lavoro anche a seguito dei flussi migratori? Guardi l'Italia è stata uno dei paesi che ha portato più mano d'opera nel dopoguerra in giro per il mondo e se chi vuol venire in Italia viene perché ha voglia di lavorare ha voglia di riscattare una situazione difficile che si porta dietro da casa non è sicuramente accettabile che si debba dire di no esattamente come invece secondo noi dobbiamo dire di no a chi viene senza voglia e senza nessun tipo di obiettivo se non quello di essere in qualche modo in un paese migliore rispetto a quello suo quindi si devono trovare le formule per far arrivare le persone per preparare le persone per far lavorare le persone e nello stesso tempo se qualche italiano ha ancora un po' di briciolo non pensi solo a far lavorare gli altri possa lavorare anche lui sul fronte dei saldi come è andata? anche se magari ancora non abbiamo dei dati definitivi guardi la moda subisce molto anche il fatto meteorologico siamo ancora in altissima stagione di caldo per cui magari qualcosa in più di quella che poteva essere l'abitudine negli ultimi anni di spesa rispetto alla produzione estiva non può essere sufficiente immaginare che una stagione recupera quello che si era in qualche modo impantanato negli anni scorsi ma non è questo è l'anno peggiore ecco possiamo dire questo non è rose e fiori ma non è l'anno peggiore se però insomma nella classifica più alta dovessimo fare chiaramente un indice è chiaro che a livello regionale l'export fortunatamente sta regalando grossi soddisfazioni e questa è l'altra parte della medaglia per cui noi non dobbiamo immaginare un paese che vive solo di turismo o che vive solo esclusivamente in manifattura è un paese che vive nell'insieme e che deve essere capace sia di esportare perché siamo sempre stati capaci di produrre prodotto e produzione di qualità sia di far arrivare un forte numero stiamo sempre parlando di milioni di turisti per fargli in qualche modo innamorare sempre di più di quello che è un paese che per quanto possa essere in chiaro scuro rimane uno dei paesi più belli al mondo grazie Massimo Zanon a voi per essere stato con noi continuiamo il telegiornale ad Annone Veneto arriva nelle fine settimana la Fiera dei Osei tutto pronto ad Annone Veneto per la 38esima edizione della Fiera dei Osei l'inaugurazione prevista per venerdì 25 settembre alle 19.30 con la mostra presso l'oratorio in via Sant'Antonio dedicata alla bonifica in Veneto Orientale a seguire la serata giovani domenica 27 agosto una lunga giornata non mancheranno stand enogastronomici ed eventi musicali con la presenza di oltre 250 volontari tante le iniziative in programma gara canora mostra di uccelli da gabbia e voliera mostra di animali da cortire rassegna cinofila amatoriale per tutti i cani di famiglia di razza e meticci quindi la conclusione con lo spettacolo del gruppo folcloristico pastoria del borgo furo e i consueti fuochi d'artificio previsti per le 22 l'appuntamento è tra i più importanti sul fronte delle fiere ornitologiche accoglie come da tradizione migliaia di persone tra appassionati e curiosi non solo dall'entroterra veneziano e trevigiano ma anche dal vicino Friuli Venezia Giulia Mele di biancaneve color rosso intenso e di ottima qualità sono queste le prime impressioni riguardanti le gale estive le prime mele a inaugurare la lunga stagione del raccolto del frutto che in Italia conta moltissime varietà e che in Veneto vede primeggiare la provincia di Verone con oltre 44.422 ettari l'annata si pronuncia migliore rispetto all'anno scorso fa sapere Conf Agricoltura in Veneto risultano in aumento sia la superficie totale a Meleto che quella già in produzione oltre a Verona anche Rovigo e Padova appunto regalano degli ottimi numeri seguono Venezia con Treviso Belluno e Vicenza la regione del Veneto ha approvato il bando 2023-2024 per la concessione del contributo regionale per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo e contenuti didattici alternativi a favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e non statali la cifra messa a disposizione a livello ministeriale per il Veneto è di oltre 6 milioni e 300 mila euro l'anno scorso le domande pervenute sono state 43.481 Porto Gruaro il Baskin finanziato da un concorso di bellezza un grande concorso di bellezza finanzierà una delle attività sportive più importanti per il mondo dei disabili nella città di Porto Gruaro il 2 settembre 2023 con inizio alle ore 17 il centro di bellezza EVA di Porto Gruaro ospita il concorso di bellezza più importante nella città dell'Eme nella finale regionale di Miss Universo Italy alla selezione regionale prenderanno parte alcune tra le più belle donne veneziane provenienti dal Friuli non per niente si tratta di una grande selezione parte del ricavato durante la serata servirà a finanziare Energy Baskin ovvero la squadra di Baskin di Porto Gruaro il Baskin è lo sport che mette assieme sportivi con disabilità e normodotati ultimi due appuntamenti invece per la rassegna musicale Valcellina in musica organizzata dall'associazione Fadiesis nella splendida cornice che abbraccia Montereale e Valcellina ma anche Andreis Barchis Cimolais Claut Erto e Casso sabato alle 17 in via Roma tra le suggestive strade di Erto Vecchia la musica incontra la street art nell'evento 22.39 l'istante spezzato il giorno successivo domenica 27 alle 18 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo di Andreis appuntamento con alchimie musicali e la musica del duo che vediamo in foto formato da Elga Anna Pisapia e Rosangela Flotta grazie per averci seguito con questo è davvero tutto vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo a seguire la rubrica la parola A condotta da Stefano Boscariola e poi le notizie dei colleghi nazionali di Talpress e non perdetevi alle 22 l'appuntamento con il film arrivederci grazie a tutti